In vita Maurina, giustamente, ha una diretta streaming da qualche parte, per dipendersi dal loro pubblico di video su YouTube. Ok, però non ce l'ha... Intanto è partito questo 1500 metri, andiamo a vedere come si evolverà, se come la tradizione ci sarà il gara tattica, se qualcuno si metterà a fare un singolo. In un momento abbiamo Mario Roani, missorino sport, al comando delle operazioni. Il NL si è messo a tirare in gruppo, è il primo passaggio sotto la tribuna per i nostri maier. Mario Roani è pure qua, alle sue spalle Simone Valduga. Ultimista, autori di 1000 gare forse, uno contro l'altro. Il gruppo che prosegue, bello più compatto sotto il passo di Mario Roani. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.